Ehi! Ciao a tutti! Oggi sono tornata con un video chiacchericcio. In realtà mi è stato richiesto e perciò eccomi qua. In realtà lo volevo poi fare anch'io, un video di aggiornamenti. Ecco la mia pancia, ho già iniziato a fare rumori. Facciamo un massaggino per calmarla. E volevo un po' aggiornarvi così sulle mie ultime novità. Anche se devo dire che questi ultimi mesi sono stati piuttosto tranquilli rispetto magari a... Mi viene in mente il video dell'estate scorsa in cui ero a fare tirocinio e avevo mille cose in ballo, mille attività. Ultimamente invece sono stata più tranquilla, diciamo. Ok. E tra l'altro a me viene sempre in mente che molto probabilmente a poche persone interessa della mia vita e di quello che faccio, di quello che voglio fare. E va benissimo così, anzi. Spero quindi che il mio parlare, 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 aiuti a rilassarsi e magari anche annoiarsi. Ci sta. E quindi che stimoli poi il sonno. Ok. Fatta questa breve introduzione, intanto sono super contenta del setup che ho fatto oggi perché è semplice ma mi sembra molto elegante. Sono riuscita anche ad abbinare una maglietta con il quadro e i colori. Questo mi rende soddisfatta. E niente, quindi partendo dalle cose più importanti, per così dire, ho ricevuto i risultati dell'esame di Stato. Per chi non lo sapesse, io sono laureata in nutrizione umana, ho fatto prima la triennale in biologia e poi a febbraio ho dato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. E l'ho passato, sono super contenta, super contenta, avevo i miei dubbi ma come sempre io mi metto costantemente in dubbio. Quindi questa è stata una bella conferma e adesso però non è così semplice, non è che domani posso andare a fare la nutrizionista perché ci sono come sempre dei tempi di attesa biblici per ottenere l'abilitazione perché devo intanto regarmi a Roma perché ho dato l'esame di Stato con un'università di Roma perché costava poco. Non so se lo sapete ma l'esame di Stato generalmente costa dai 400 euro in su, varia di sede in sede. Io giustamente ho cercato quella che costasse un po' meno e ne ho trovata una a Roma, come molte altre persone che conosco. Perciò ho dato l'esame con quest'università e per qualche motivo non è possibile spedire il certificato di abilitazione ma bisogna ritirarlo a mano. Quindi adesso sto programmando una mini fuga a Roma per ritirare questo certificato dopodiché presento all'ego il certificato e altri documenti e li mando al mio alpo regionale dei biologi dopodiché mi sembra ci siano circa 60 giorni di attesa e poi si spera che sia sufficiente tutto questo e io possa finalmente praticare la mia professione. Dunque a proposito di questo, come molti di voi sapranno già perché l'ho ripetuto tante volte nei miei video, non sono 100% sicura di voler fare da nutrizionista almeno non per tutta la vita e non solo quello. Sicuramente ho intenzione di provarci perché ci ho messo tanto impegno tanti anni di vita e poi dopo l'esperienza del tirocinio devo dire che ho avuto modo di rendermi conto nella pratica di ciò che comporta questo lavoro e mi ha soprattutto colpita e convinta l'aspetto umano quindi avere a che fare uno a uno con le persone, aiutarle, ascoltarle, questo è l'aspetto che più mi piace di questo lavoro e poi sicuramente può dare tante soddisfazioni dal momento che magari torna un paziente che ha seguito la tua dieta e sta meglio, si sente meglio, è più felice quindi mi ispira da questo aspetto perciò quando potrò praticare penso che andrò a trasferirmi in un'altra città perché lo dico ormai da molto tempo ma Torino mi ha un po' stufata nonostante io ami tantissimo questa città è ormai diventata la mia città però ho bisogno di cambiare e sinceramente non so dove andrò ma nonostante la mia incertezza non solo su questo ma in generale devo dire che vivo con serenità la mia incertezza e ho pensato intanto che potrei chiedere alla nutrizionista dalla quale ho fatto il tirocigno se mi offre qualcosa l'aveva già accennato quindi trasferirmi in quella città là in Veneto come saprete già se avete visto i video dell'anno scorso tra l'altro io amo il Veneto quindi sarebbe bello provare a vivere lì per un po' oppure pensavo di andare in Friuli giusto perché è la terra in cui sono nata quindi non so mi è venuto questo istinto di tornare un po' alle mie radici scoprirle anche perché io non conosco purtroppo il Friuli perché sono nata a Udine ma quando avevo due mesi i miei si sono trasferiti all'estero quindi non ho avuto modo di conoscerla come terra e mi piacerebbe tantissimo tornarci e quindi ho una mezza idea di provare anche il Friuli oppure pensavo di cambiare totalmente andare al sud mi piacerebbe tanto la Sicilia perché ho anche dei contatti là quindi sarebbe un po' più semplice oppure pensavo in realtà tutto il sud tutto il sud mi piacerebbe scoprire provare ad abitare là quindi ho un po' sì ho un po' di confusione ovviamente come si percepisce come si intuisce ma almeno ho stimoli e questa è una cosa non da poco perché conosco molte persone nella mia vita che anche più giovani di me che però non hanno stimoli di provare di andare di fare e quindi sono contenta almeno di avere questo questo impulso a mettermi un po' in gioco a cambiare ad andare via da sola e quindi da questo lato sono contenta poi cos'altro sì parallelamente al lavoro della nutrizionista sto cercando di avviare la diciamo l'aspetto più legato alle mie passioni che in realtà sono principalmente due l'arte e la matura dal lato naturalistico mi piacerebbe molto provare a fare la guida naturalistica magari un giorno la guida alpina non so se lo sapete ma la guida alpina è l'unica figura riconosciuta e abilitata per portare le persone in montagna in montagna però sulla neve in inverno ecco ed è un lavoro che però richiede tantissimo impegno ci vogliono anni e anni per raggiungere i requisiti e però sì lo tengo un po' come l'obiettivo finale nel frattempo pensavo di conseguire altre certificazioni quindi la guida naturalistica l'accompagnatrice di media montagna e e quindi mi sto dando da fare in questo senso ogni volta che posso vado in montagna vado a fare delle escursioni vado a sciare tra l'altro ho smesso per quanto possibile di sciare sugli impianti e vado sempre fuori pista il che all'inizio mi faceva tantissima paura ma buttandomi buttandomi ovviamente con la testa non è che vado a fare cose estreme però appunto affrontando un po' queste paure sono riuscita a sbloccarmi ad andare a fare tante avventure fuori pista poi ho iniziato ad arrampicare anche questa attività mi faceva molta paura però tuttora mi fa molta paura ma è una questione proprio mentale e per questo mi piace come attività perché devi proprio imparare a controllare la mente controllare le emozioni e per me è estremamente utile visto che sono una persona molto emotiva e quindi mi aiuta ad allenare la mente e ad avere un maggior una maggior comunicazione tra mente e corpo quindi sostanzialmente nel mio tempo libero e adesso ne ho decisamente di più visto che ho smesso di studiare vado sempre a fare queste attività qua all'aperto poi per il resto ho ripreso ho ripreso un po' a dipingere a disegnare avevo un po' accantonato queste queste attività per via dello studio dello stress degli mesi passati ma adesso ho ripreso è una valvola è una valvola di sfogo fantastica per me mi aiuta proprio a esprimermi e a perdermi e a stare nel momento quindi ah sì poi mi era venuta l'idea troppe idee di aprire un negozio su Etsy che è un'app non so se la conoscete dove artisti ma non solo vendono le proprie opere non so potrei ci ho fatto un pensierino anche se sono comunque un po' riservata sui miei disegni sui miei dipinti non lo so cosa farò e tra l'altro io sto proprio parlando a ruota libera quindi perdonatemi se molti pensieri sono un po' sconnessi ma sto buttando proprio fuori tutto come mi viene nella testa quindi sì spero capiate qualcosa poi ah altra cosa ultimamente tramite il canale mi stanno arrivando diverse richieste da parte di aziende sponsor eccetera e è nato un po' un conflitto interiore nel senso che molte di queste aziende mi stanno chiedendo di aprire un account Instagram perché perché ovviamente è un mezzo di pubblicità aggiuntivo rispetto a YouTube è molto più efficace eccetera eccetera e quindi sto ricevendo un po' di pressione da questo punto di vista e in realtà era prevedibile perché sapevo quando ho iniziato a ricevere le prime collaborazioni con le aziende sapevo che prima o poi mi avrebbero chiesto l'Instagram se potevo postare lì eccetera e quindi l'avevo tenuto in conto ma devo dire che la pressione è forte e mi dà fastidio anche se so che comunque il mondo gira così ormai e i social sono cioè Instagram alla fine è il mezzo principale tramite cui le aziende si pubblicizzano e soprattutto gli influencer collaborano con le aziende però vi dico sono ancora convinta che non faccia per me allora alcune persone nella mia vita mi dicono vabbè le dai apri un account lo usi solo per lavoro non posti le tue cose lo tieni unicamente legato al canale eccetera eccetera è ok ma il fatto non è tanto di tenere un account solo per lavoro ma il fatto è che una volta che secondo me poi uno entra in questo circolo vizioso è difficile uscirne o comunque è difficile schermarsi da tutti quei da quelle influenze negative no e inevitabilmente secondo me crea dipendenza vai a vedere un account un profilo qua guardi le foto dici ah io non sto facendo questo perché quindi è un po' un mondo in cui non voglio entrare e devo dire che sono alcuni mesi che ci penso ma sono 90% sicura che non lo aprirò ditemi anche voi cosa ne pensate perché magari io sono troppo sono troppo chiusa sotto questo aspetto non lo so sarebbe la sentirei come un po' una un tradimento di me stessa e dei miei valori che può sembrare estremo ma effettivamente io sono anni che mi mi distacco da tutto questo mondo no a parte youtube che comunque uso in modo secondo me molto sano e poi comunque youtube è diverso da instagram ma appunto ho passato un sacco di tempo a non non far parte di tutto questo cerchio mi seccherebbe cedere che poi perché lo farei semplicemente per una questione di denaro no perché ovviamente facendo i post e facendo vedere i prodotti dell'azienda ovviamente guadagnerei ma secondo me non ne vale la pena quindi questo è un po' il conflitto che sto avendo per quanto riguarda il canale poi altre cose altre cose ah sì ho sempre collegato il canale sto ricevendo diverse proposte di interviste che non mi aspettavo allora una l'ho già fatta ed è quella che avevo messo una storia il podcast si chiama mele lo trovate su spotify ed è prodotto da torcia e mi hanno fatto questa intervista l'hanno messa è venuta carina secondo me poi un'altra intervista che non ho ancora fatto ma secondo me posso spoilerarlo anche perché credo uscirà breve è un'intervista con il Corriere della Sera che neanche questa ovviamente me l'aspettavo ma mi hanno contattata hanno detto che vogliono indagare meglio il fenomeno ASMR che in Italia non è molto noto e perciò devo appunto devo ancora fare questa intervista quindi sì tante tante novità riguardo al canale poi 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 a parte il canale in sto periodo devo dire che sì ma appunto vado spesso a fare le attività di cui vi ho parlato a poi ad aprile inizio un corso di alpinismo sono super emozionata ci porteranno a fare vie su roccia quindi arrampicata in montagna poi a luglio ci portano su due chiacciai e non vedo l'ora sono veramente emozionata sento proprio che questa strada fa per me è come se per la prima volta nella mia vita sentissi di essere al posto giusto nel momento giusto quando vado a fare queste attività mi sento proprio completa mi riempie di belle emozioni perciò sono molto contenta poi altri progetti ovviamente ne ho un sacco sicuramente il primo è trasferirmi quindi andare a vivere da sola e ora sono già mi sento un po' la pressione addosso che poi in realtà rispetto a certi amici che ho che vivono all'estero cioè che sono proprio allora una è australiana e l'altra mia amica abita a Panama e loro sono già fuori di casa dai 19 anni perché lì funziona così finisci il liceo e poi vai a fare l'università fuori e raramente torni a casa mentre qui è un po' diverso però appunto sento questo bisogno di indipendenza è di sostanzialmente quello di avere i miei ritmi i miei orari gestirmi io le cose e quindi questo è il primo obiettivo ovviamente è legato alla questione del lavoro quindi prima dovrò cercare un lavoro ma spero una volta abilitata di riuscire a trovare un buon giro e quindi poi fatto quello dovrei riuscire a trovare un posto per me eccetera eccetera altri progetti allora pensavo quest'estate intanto vabbè ho questo corso di alpinismo che dura fino a luglio poi ad agosto volevo fare un bel po' di cose in montagna volevo fare il mio primo 4.000 magari anche più di uno se riesco e poi magari settembre ottobre pensavo di fare quella si chiama work away quindi praticamente tu vai in un paese e dai la tua mano d'opera e loro ti danno vitto e alloggio e pensavo di farlo magari in Nuova Zelanda che è un paese che vorrei tantissimo visitare e quindi non lo so magari vado là mio fratello ad esempio va quest'estate va a lavorare in Australia per 2-3 mesi e quindi non so o lo raggiungo alla fine oppure vado in Nuova Zelanda vediamo 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 e poi ho vari altri piccoli progetti per quest'estate ma magari ve ne parlerò poi perché mi rendo conto che dico un sacco di cose o un sacco di progetti e poi alla fine non è che faccio tutto quindi meglio non dire tutto già così ne ho dette tante di cose lo so poi ovviamente adesso che ho più tempo libero ho più tempo anche per riflettere e questo non mi porta sempre a delle conclusioni anzi quasi mai però certe conclusioni le ho raggiunte e magari ve le condivido diciamo che arrivata a 27 anni mi sono resa conto che ci sono alcuni pilastri alcune certezze che sono un po' la base della della mia vita e del mio agire tra l'altro mi sono anche scritti perché ho ecco ho iniziato un po' a scrivermi a mettere per iscritto i miei pensieri mi aiuta a sfogarmi allora questi pilastri sono innanzitutto no in realtà non c'è un ordine ve li dico un po' in ordine sparso innanzitutto il contatto con la natura e con gli animali mi sono resa conto che non può non può essere una cosa semplicemente saltuaria ma deve essere un qualcosa integrato nella mia vita quotidiana il contatto con la natura e e questo è uno poi il perché 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 mi ricarica mi fa stare bene mi sento quando sono magari in un bosco o in qualsiasi ambiente naturale mi sento non esclusa mi sento parte di un qualcosa parte di un tutto e la mia vita riacquisisce un senso riacquisisce riacquista vabbè comunque torna ad avere un senso e questo non mi succede quando sono magari in città in un bar a un evento comunque non mi succede negli ambiti sociali mi succede quando sono da sola in un contesto naturale non so se sia per la mia personalità può essere sta di fatto che mi sono resa conto che devo integrarlo nella mia vita possibilmente tutti i giorni infatti comunque ogni mattina io vado a fare un trail running una passeggiata per fortuna abito in collina quindi ho un sacco di verde e di posti anche abbastanza incontaminati qui vicino a casa e ogni mattina vado e inizia bene la giornata poi altri pilastri sono sicuramente il curare e nutrire le relazioni ma ovviamente solo quelle che contano perché anche lì ho imparato in questi ultimi anni a selezionare bene le persone con cui mi rapporto non ho ancora fatto diciamo un lavoro al 100% ci sarebbe ancora qualche cosina da sistemare è difficile comunque tagliare i rapporti o interrompere delle dinamiche che sono andate avanti per tanto comunque sto cercando un po' di migliorare sotto questo aspetto e di appunto nutrire quelle relazioni che mi fanno bene che fanno stare bene l'altra persona e quindi essere più disponibile all'ascolto in generale o comunque essere proattiva quindi organizzare proporre fare e mi sto impegnando in questo e non è facile per una persona che di natura è introversa e timida ma devo dire che secondo me uno dei sensi se non il senso della vita è proprio quello dei rapporti umani perché alla fine è quello che ti rimane no? e perciò questo è un altro pilastro un'altra certezza che tra l'altro è interessante perché quando ero adolescente ma anche fino ai 21 22 anni ero convinta che l'uomo fosse più felice da solo che non avesse bisogno dei contatti sociali che così insomma potessi starmene a fare l'eremita no? invece poi le cose cambiano uno cresce le esperienze e adesso il mio punto di vista è completamente opposto a quello di sette anni fa e così altre certezze sicuramente sono la la lentezza quindi cercare di andare il meno possibile di fretta no? e ciò significa immergersi di più nelle cose stare più nel momento non dare le cose per scontate e credo in sintesi sia gustarsi di più la vita quindi la lentezza e poi beh sicuramente praticare esercizi o comunque un atteggiamento di accettazione di sé sapendo che sì c'è una tendenza o comunque allora secondo me siamo di base incoerenti e contraddittori no? e questo va accettato perché alla fine mi sono resa conto che ci sono proprio periodi momenti in cui uno e in un certo modo persegue i propri obiettivi agisce in base ai propri valori alla propria bussola morale no? momenti in cui non si fa così ma non c'è da punirsi o da essere esageratamente duri con se stessi perché è normale non essere sempre perfetti è normale deludere le aspettative che se non non ci dovrebbero essere aspettative ma comunque ci sono è normale così essere diciamolo è normale fare un po' schifo ogni tanto secondo me e questo va accettato e e quindi si sono questo è un'altra un altro dei miei pilastri l'accettazione di tutti i nostri lati tutte le nostre sfumature tutte le nostre contraddizioni e è così poi altre cose un'altra cosa che ho imparato soprattutto nell'ultimo anno nel mezzo è buttarsi nelle cose nelle situazioni anche se si ha paura e io non l'ho fatto praticamente ho passato 26 anni 25 26 anni della mia vita a essere incredibilmente paralizzata dalla paura e praticamente non ho fatto niente ovviamente ho fatto delle cose ma ho fatto poco rispetto a quello che potevo fare e è scattato poi qualcosa in realtà ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita diverse persone che mi hanno influenzata e comunque sono cambiate in questo senso e ho proprio deciso di affrontare le mie paure e lanciarmi e questo mi ha fatto un gran bene mi ha dato autostima mi ha dato forza e penso sia proprio una delle basi e poi sì c'erano altre cose ma in questo momento mi sfuggono ma comunque sì queste sono un po' le certezze principali ovviamente non sto a dire quelle magari un po' più ovvie ad esempio amare le persone a te vicine a te care essere gentili eccetera eccetera ovviamente queste sono cose che dovremmo avere tutti io parlavo più di cose che ho imparato ecco in questi anni poi pensavo di concludere con alcuni dei libri che ho letto ultimamente tra l'altro adesso che ho più tempo libero sto leggendo un sacco sono super contenta diciamo che sì sono un po' monotematica perché ho letto un sacco di libri di montagna e di alpinisti ma ho letto anche altri libri vi faccio vedere vabbè partiamo da quelli sull'alpinismo allora questo è un libro meraviglioso di un filosofo che io stimo molto che è Vito Mancuso di cui avevo già parlato e l'ho fatto in collaborazione con la grandissima alpinista uno dei miei idoli Nives Meroi che penso sia se non sbaglio l'unica donna italiana che ha conquistato tutti i 14 G8000 senza ossigeno è una tosta e hanno fatto questo libro che si chiama Sinae ed è bellissimo ve lo consiglio perché in realtà non è che parla tanto di montagna ma parla di di vita di di esistenza e sì collegato alla montagna molto bello poi ho letto questo di Gara Cimenti anche lui purtroppo ormai è mancato da circa due anni era un grandissimo alpinista di Torino tra l'altro e questo libro mi è piaciuto tantissimo la storia della sua avventura sul Nanga Parbat e sul Crasherbroom 7 poi ho letto questo di Reinhold Messner devo dire che non mi è piaciuto troppo l'ho trovato forse un po' banale magari sono io sicuramente comunque è credevole poi adesso non li ho qui perché li ho già prestati a un mio amico ma ho letto due libri di Walter Bonatti che si chiamano il addio i miei ricordi e un mondo perduto bellissimi Walter Bonatti è proprio idolo degli idoli ma in realtà non solo come alpinista ma proprio come uomo trovo che avesse dei valori molto molto importanti e molto radicati ecco era ascoltando un po' le sue interviste era molto era proprio convinto di quello che faceva e diceva poi passando a libri non collegati all'alpinismo beh questo è un po' nascemenza si chiama ho sposato una vegana di Fausto Brizzi questo me l'hanno regalato perché sono vegana un po' come scherzo è un libro decisamente leggero e corto l'ho letto in un pomeriggio sicuramente mi ha stampato qualche sorriso ma non è che sia chissà cosa ogni tanto ci vuole qualche lettura di intrattenimento poi un libro che mi è piaciuto tantissimo è Un amore di Dino Buzzati questo libro è stupendo ha un modo di scrivere particolare lui è il primo libro che leggo suo devo leggere Il deserto dei Tardari assolutamente lo so però questo è meraviglioso ha anche delle intuizioni che mi hanno veramente colpita e ve lo consiglio poi altri libri che non ho qui ma che ho letto ho già prestati sono quello su cui avevo fatto un video anche La cura di Armanesse e poi 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 ne ho letto un altro ma non me lo ricordo in questo momento vabbè non me lo ricordo comunque sì sto mi sto veramente dedicando la lettura e niente ho parlato già un sacco non so bene se ho detto qualcosa di interessante spero di sì nel caso almeno vi siete annoiati per bene e spero siate pronti per dormire se avete domande curiosità qualsiasi cosa lasciate pure un commento io comunque cerco di rispondere sempre e e niente grazie di tutto il supporto che mi date e continuate a darmi veramente non non è mai scontato ecco e se ci penso mi commuovo perciò grazie e grazie anche della pazienza se siete arrivati fin qui vi auguro una buona notte e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao